Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, no, no. No, 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 no. Cerca di restare affiancato. Va bene. Tienemelo. C'è un ciclista! Avanti! Venti ancora più forte! Se cercano di fermarci, ammazzo te! Qual è la prossima stazione? C'è il Kine. Cercheranno di scendere. Dobbiamo arrivarci prima, prenderanno degli ostaggi e scapperanno su una macchina. Spara sulla gente! No! Aiuto! Se non vogliono una strage ci lasceranno andare. Accelera! Annunzio a doppia vela 21. Bisogna deviare il treno. C'è pericolo di una collisione. Avvertite il centro di smistamento. Capo stazione. Precedenza assoluta. Togliere il sigillo e azionare lo scambio. Un treno non ha rispettato il rosso. Un treno non ha rispettato. Adesso a costa. È rimasto solo quello col fucile. Voglio provare ad agganciarmi. Va bene. Stia tranquillo. Tu coprimi. Vai più sotto! Più sotto! Questo mi sembra il posto più adatto. Ci provo. Pagasculla! 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 No, no, no. 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 No, no, no.